Musica Il 5 giugno all'Hemingway Club di Catanzaro è in programma l'evento Radio Night Live promosso da UMG Web Radio, la Web Radio Universitaria fondata e gestita dalla Fondazione Università Magna Grecia che racconta la realtà dell'Ateneo di Catanzaro. Radio Night Live è un regalo che i giovani ragazzi universitari hanno deciso di offrire alla cittadinanza. L'evento sarà un mix perfetto di musica ed arte. Ospite della serata sarà Federico Cimini, giovane ma già apprezzato artista calabrese che ha inserito la data del 5 giugno in quelle del tour di presentazione del suo ultimo lavoro per Eira. Durante la serata ha anche spazio all'arte con installazioni e performance live di body painting. Ma non finisce qui Radio Night Live, oltre a proporsi come alternativa sul fronte musicale con un live d'autore, ha uno scopo sociale. I ragazzi di UMG Web Radio hanno infatti associato all'evento e dall'intrettenimento una raccolta fondi il cui ricavato sarà devoluto all'acquisto di tappetini elastici che saranno ad aiuto alla riabilitazione motoria di soggetti con problemi neurologici. Radio Night Live che è questo evento organizzato da UMG Web Radio e promosso dalla Fondazione Università Magna Grecia perché ricordiamo essere con lei che ha organizzato sia la radio che questo evento è un evento che non solo vuole essere un regalo agli studenti universitari che in questa stagione ci hanno sostenuto, ci hanno accompagnato, ci hanno ascoltato per la bella durata di un anno, ma vuole anche essere un nostro regalo, un nostro tentativo di sostenere il sociale, comunque di fare qualcosa di buono per il comprensorio. Per cui abbiamo deciso di abbinare a questa serata anche una piccola raccolta fondi per l'acquisto di tappeti elastici per la riabilitazione motoria dei pazienti neurologici al quale è stata associata una piccola estrazione perché chiunque donerà almeno un euro a questa causa, a questa piccola raccolta fondi, avrà il diritto di partecipare a un'estrazione e due biglietti del concerto dei Subsonica di quest'estate, di questo agosto a Catanzaro. L'ospite è Calabrese, è Federico Cimini, che è questo giovane cantautore di cui da poco è uscito l'ultimo album che si chiama Pereira e l'abbiamo scelto appunto perché durante questa stagione UMG Web Radio ha promosso un programma chiamato Musical, Music Made in Calabria che appunto cerca di far conoscere agli studenti le realtà musicali della nostra regione. Ci è sembrato quindi doveroso puntare su un nome calabrese per la nostra serata e scegliere proprio lui che è un giovane cantautore che si sta facendo sentire in tutta Italia e che ha apprezzato il nostro evento e ha provato di inserire la data di Catanzaro tra le date del suo tour nazionale.